Aumentare la capacità comunicativa, strumento fondamentale per riavvicinare il paziente al sanitario curante, potenziare le risorse e lavorare nella direzione di migliorare la qualità dei risultati assistenziali. E la sintesi della ricetta è inviata in un documento al Ministro della Sanità Orazio Schillaci, al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e ai Manager dell'Asla di Salerno e dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, Gennaro Sosto e Vincenzo D'Amato, dalle professioni sanitarie della provincia di Salerno, nel giorno in cui molte piazze d'Italia, medici ed operatori sanitari terranno una fiaccolata per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, uccisa barbaramente da un suo ex paziente dinanzi al reparto di Santa Chiara dell'Università di Pisa. L'intera categoria, sottoposta quotidianamente a tanti pericoli, violenze fisiche e ancor più verbali, troppe volte sottaciute, questa mattina si è riunita presso la sede dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, preseduto dal dottor Giovanni D'Angelo, dove in maniera congiunta hanno sottoscritto un documento per richiamare l'attenzione delle massime autorità, ma anche dei cittadini, sulle condizioni di insicurezza sul luogo di lavoro, che di fatto incide sulla qualità delle prestazioni sanitarie ai cittadini e ai pazienti. Noi invieremo questo documento da tutte le autorità competenti. È un documento che cercherà innanzitutto di fare, io dico breve, perché l'analisi, se si volesse fare l'analisi dei momenti scatenanti, la violenza, è un'analisi che porterebbe via veramente, non pochi minuti né poche ore, ma giorni, troverete delle indicazioni che possono essere indicazioni di massima, la prima delle quale è quella di monitorizzare un po' più attentamente quelle che sono le problematiche generate dalle violenze, perché le violenze che avvengono sono di gran lunga superiore a quelle segnalate. Ma per varie motivazioni che specificheremo, ma che voi potete intuire, se non altro, quando uno ha una famiglia a carico ed incontra una persona non certo gradita, probabilmente pensa a proteggere più la famiglia che a denunciare. Il caso della psichiatra uccisa dimostra due cose. Uno, che i servizi per le dipendenze, come quelli di salute mentale, sono tra i servizi più esposti, perché le richieste dei pazienti, a parte lo specifico caso, insomma, di una situazione psicopatologica, sono richieste che hanno a che fare anche con il risvolto non solo assistenziale sanitario, ma anche socioassistenziale, a cui ovviamente non ci sono delle risposte. Si dovrebbe lavorare sui baggi di salute, sulla cooperazione col sociale, con l'integrazione, quindi sicuramente le espressioni di violenze sono legate, oltre che alla violenza specifica, anche ad altre sfaccettature. Non di meno quelle che sono anche le situazioni che vedono questi servizi, io sono anche il direttore di un servizio per le dipendenze, anche un ruolo di controllo, misure alternative alla detenzione, controllo da parte dei tribunali, tribunali dei minori, quindi il sanitario, psicologo, medico, ma anche l'infermiere, che è il primo esposto, sono in un doppio ruolo, ruolo clinico, ma anche ruolo di controllo.